Dunque Presidente, il progetto va avanti, una bellissima soddisfazione, giusto? Assolutamente sì, è una bella cosa, insomma, oramai sono tre anni che abbiamo passato splendidamente, siamo contenti che sono cresciute tutte le leve, il mister, insomma, si stanno adeguando, diciamo, alla linea sportiva del professionismo, insomma, adesso abbiamo rinnovato, insomma, in teoria dovremmo migliorare un po' le cose, nel senso che ulteriormente cercheremo di fare più camp direttamente qua sul campo, diciamo, dei incontri formativi direttamente sul campo. Oggi tantissima gente ha testimonianza che questa iniziativa piace anche a livello locale? Sì, direi di sì, la gente ha recepito la cosa che non è fumo negli occhi ma è una cosa tangibile e che è una cosa importante perché gradatamente dovrebbe dare i suoi frutti e già comunque اد. Aspetta A